Su Notion è appena uscita la funzione più importante degli ultimi anni. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Sto parlando dei grafici ed era l'ultima cosa che mancava a Notion per non utilizzare più app esterne. Prima per fare i grafici dovevamo affidarci a piattaforme esterne che andavano a basarsi poi sui nostri database. Solo che non è una soluzione ottimale sia per i tempi che ci mette magari il grafico ad aggiornare sia perché molte volte il sito non riusciva a reperire le giuste informazioni dei nostri database. Notion ha introdotto quattro nuovi grafici e vediamoli subito. I grafici che possiamo creare sono grafico a barre verticali, grafico a barre orizzontali, grafico a linea e grafico a torta. Come vedete a schermo c'è già un grafico a torta che è quello delle mie spese nel 2024. E poi arriveremo anche a come personalizzare i grafici ma prima vediamo un overview generale. Abbiamo due opzioni per creare i grafici o da un database già esistente premiamo più e aggiungiamo una vista selezionando grafico. Qui dobbiamo premere link a database quindi collegati a un database e selezioniamo il database da cui vogliamo tirare fuori i dati, in questo caso le spese. E il grafico ovviamente farà schifo perché imposta dei parametri un po' sbagliati. L'altro metodo per creare un grafico è quello di andare su una linea vuota come questa qui e fare slash chart. E come vedete ci sono i quattro nuovi grafici. Una volta selezionato il grafico come prima richiederà di collegarsi a un database, selezioniamo quello delle spese, ed è come avere una vista duplicata del mio database. Prima di andare avanti però parlando di disponibilità dei grafici, se avete un piano gratuito potete creare un solo grafico in tutto il vostro workspace. Invece in tutti gli altri piani, il plus, il premium, il business abbiamo grafici illimitati. Ovviamente per esempio per il mio tracker finanziario è meglio avere grafici illimitati per poter avere un grafico per ogni singola tabella. Amo i grafici perché ti aiutano a visualizzare cosa sta succedendo. Infatti quando ne hanno aggiunti e mi sono messo a usarli sul mio tracker finanziario sono rimasto un po' scioccato. Se volete scaricare i nostri non trovate sempre il link affiliato nella descrizione. Quindi vediamo finalmente come personalizzarli. Per esempio questo grafico che fa altamente schifo. Vediamo come arrivare al grafico di prima. Intanto ci spostiamo sul grafico a torta, poi vedremo anche quello a linee e quello a barre. Credo che ognuno abbia la sua utilità, per esempio quella linea è utile per far vedere una data proprietà durante il tempo. Quella a barre magari per suddividere e vedere meglio le categorie e quella a torta invece per quello che faccio io a me piace molto. Dopo aver selezionato la torta possiamo scendere. Ovviamente a secondare il grafico le personalizzazioni sono diverse. Per esempio qua possiamo personalizzare la 6X, la 6Y. Stessa cosa con la curve. Ovviamente nel grafico a torta non possiamo personalizzare la X e la Y. Quindi che cosa possiamo andare a modificare? Possiamo decidere che cosa mostrare. Quindi io nel mio caso sono interessato a vedere dove spendo i miei soldi, quindi outcome type. E vedete che già si aggiorna qualcosa. Each slide represent vuol dire ogni slide che cosa rappresenta. In questo caso sta semplicemente andando a contare le volte che ho utilizzato quel tag. Quindi per esempio 153 volte il cibo. Ma a noi non interessa questo, a noi interessa sapere quanto ho speso. Quindi selezioniamo amount, perché gli altri non c'entrano. E vediamo che appaiono altre opzioni. Ovvero somma, media, minimo, massimo, mediana, che è diversa dalla media. E i valori distinti. Selezionando somma, andrà a fare la somma di tutti quei dati che hanno un determinato tag. Sortby ci dà la possibilità di organizzarli in questo modo. Semplicemente cambiare un po' il grafico. Me lo tengo così io. E si possono anche decidere di nascondere alcuni tag. Per esempio dico no, i regali non li voglio considerare in questa conta. E me li toglie. Arriviamo alla parte un po' di stile, un po' di colorazione del grafico. E soprattutto di personalizzazione vera e propria. Perché queste erano solo le impostazioni del grafico. Infatti la cosa strafiga che puoi personalizzare è avere tutti i colori del mondo. Abbiamo la possibilità di o utilizzare auto, quindi il colore del tag. Il tag food al colore verde, il tag fan al colore giallo e così via. E non solo, possiamo anche selezionare colorful, o utilizzerà un po' di colori molto accesi. Oppure si possono utilizzare delle sfumature. Ovviamente c'è quella grigia, classica Notion, e può starci in alcuni template. E ci sono un po' di colori, per esempio il giallo. La cosa molto interessante è che i grafici si aggiornano istantaneamente. Qua abbiamo anche altre opzioni di stile. Possiamo decidere la grandezza del grafico. Se piccolo o extra large, per esempio, viene veramente enorme. Poi possiamo disattivare il numero in centro. Il colore per valore va evidente a fare quello che dicevo prima. Ovvero di mettere in ordine il colore con l'opacità che scende a seconda della grandezza della fetta. Prima non me ne sono accorto, ma erano a casa i colori. Poi possiamo disattivare la leggenda qua sotto. E possiamo anche scegliere se avere questi trattini, che sono i data labels. E abbiamo anche qui diverse opzioni, se è solo il numero, se è la percentuale e così via. Purtroppo però questi grafici hanno delle limitazioni. Per esempio, se facciamo un grafico che è collegato a un database, che è collegato ad altri due database. Per esempio, nel caso del mio financial tracker, abbiamo questo database, che è il database balance, che si collega con due relazioni alle entrate e alle uscite. In questo caso, io non posso andare a fare un grafico che mi va a tracciare, magari un grafico a linea, le entrate e le uscite sullo stesso grafico. Non si può collegare a due database, o meglio, non si può collegare a un database che va a prendere proprietà da due database diversi. E un'altra limitazione che potrebbe dar fastidio a qualcuno, se magari volete dei grafici in un certo modo, è il fatto che non si può limitare la quantità di dati che visualizzi. A differenza di un qualunque database dove possiamo andare qui in alto e dirgli di caricare massimo 10 pagine, qua non possiamo andare nel grafico a torta, per esempio, e dirgli mostrami solamente le 5 categorie in cui ho speso di più. Questa potrebbe essere un problema. Più che problema, è un fastidio quando si creano i grafici. A livello di sicurezza dei dati, quando si condivide una pagina o un grafico, per esempio premendo share in alto e condividendolo a una sola persona, oppure quando si collega a un sito di Notion, infatti Notion può fare i siti web, il database a cui è collegato il grafico deve essere pubblico anche quello, se no il grafico non si caricherà. Un'altra cosa da tenere in conto è che se usate dei template con più grafici e avete il piano gratis, vi si caricherà un solo grafico. Per vedere gli altri dovete fare l'upgrade del piano. A proposito di condivisione dei grafici, la cosa strabella che mi piace è questo tasto qui, ovvero salva il grafico come, e si può salvare intanto personalizzando lo sfondo, e poi si può copiare come PNG, scaricare come PNG o scaricare anche come SVG. Si può bloccare la visualizzazione, si può copiare il link al grafico, riguardo a quello che dicevo prima della condivisione dei grafici. E un'altra cosa che secondo me, team di Notion, se mi stai ascoltando, fatela, deve esserci la possibilità che se io premo, per esempio qua su food, o mi fa vedere una lista delle cose taggate food, oppure premendo mi apre qualche sorta di pagina che mi fa vedere tutte le cose taggate food. Non me lo immagino molto in un contesto così come il Financial Tracker, ma magari in un contesto di un team, di un'azienda, che tratta un grafico per la gestione dei progetti, semplicemente magari passando sopra il mouse può vedere la persona a che progetti sta lavorando, oppure sul progetto, chi sta lavorando e così via. Ci sono diverse applicazioni che si possono dare ai grafici. Ho visto un video di tipo 46 minuti che fa vedere tutte le applicazioni e i contesti in cui si può inserire un grafico. Uno di questi era il Financial Tracker, ma si può applicare anche ad altre cose molto motivazionali. Per esempio se avete un tracker dove vi segnate ogni allenamento che fate, il grafico è un ottimo modo per tenersi motivati. Prima di concludere questo video però vediamo anche gli altri grafici, perché abbiamo visto solo questo qui. Iniziamo con il grafico a linea, che ovviamente anche qui è sballato. In questo caso nella X voglio far vedere la data, quindi data e seleziono magari settimana. Facciamo ovviamente old by new, quindi a sinistra ci sono quelli più vecchi, a destra quelli più nuovi. E facciamo vedere invece del conto, che ogni volta imposta questo, l'amount somma. Se attiviamo cumulativo andrà a fare la somma ogni volta. A me non mi interessa perché non avrebbe molto senso. Color lo lascio così, abbiamo anche altre opzioni qua, che sono diverse da quelli di prima. Per esempio possiamo fare la linea smooth, quindi bella curva, ed è molto più bello il grafico così, non mi potete dire niente. Si può mettere la sfumatura sotto o toglierla, la leggenda uguale a prima, i data labels come prima, e si può in questo caso ovviamente dare anche i nomi agli assi. Si può anche modificare la griglia che c'è dietro, quindi non averla, avere solo linee orizzontali, solo linee verticali o entrambe. Vediamo anche i grafici a barre verticali, quelli orizzontali sono uguali, un po' girati. In questo caso andiamo a fare come il grafico a torta, quindi andiamo a mostrare l'outcome type. Sulla Y invece usare count, che mette sempre questo, ma non ha minimamente senso, andiamo a fare amount e sum. E le personalizzazioni sono uguali a quelle del grafico a linea, tranne ovviamente la cosa di avere la linea smooth. E in realtà possiamo anche fare un altro tipo di grafico, ovvero quelli stacked. Per esempio, vogliamo vedere in ogni settimana quanto abbiamo speso e la suddivisione di quanto abbiamo speso? Mettiamo sulla X la data, sulla Y selezioniamo amount e sum, e facciamo group by outcome type. Per esempio, nell'ultima settimana di luglio ho speso 54 euro in cibo e 74 euro per cose video, che era la cage. Oppure in questa settimana di agosto ho speso 22,50 euro per il cibo, 27 euro di divertimento, 101 euro di investimenti e 5,50 euro di recurring, che è Spotify. Detto questo, credo di avervi parlato di tutto quello che riguarda i grafici di Notion e vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto, quindi iscrivetevi e lasciate un like. Vi ricordo anche che in descrizione trovate il link affiliato per scaricare Notion. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video.